La presentazione è abbastanza lunga, quindi visto che siamo un po' in ritardo, vediamo se riusciamo a fare anche il secondo aspetto della presentazione, quello riguardante la selettività degli attrezzi, che ho ottenuto come secondo e anche meno sviluppato del primo. Mi sono concentrato, come tu hai detto, sugli audit energetici nella pesca, perché come nel 2008 si è arrivati ad una situazione in cui il carburante e la tecnologia come può venire in aiuto a questa situazione di emergenza. Gli audit energetici sono stati definiti, c'è un regolamento di riferimento e sono stati ben definiti anche dalla Commissione europea, l'audito energetico è un approccio sistematico per valutare il consumo energetico a bordo dei pescherecci. Gli obiettivi sono quelli di definire, mediante degli indicatori appositamente sviluppati, un profilo energetico del peschereccio che possa essere confrontato poi con gli altri e quindi definisca un po' il livello proprio come con le lavatrici, se c'è una performance ottimale, buona oppure ci sono delle perdite. E individuare quindi a valle i miglioramenti tecnologici che possono garantire dei vantaggi sia tecnici che economici. Vado molto velocemente su queste prime slide che danno un po' il background del contesto in cui viene inquadrato e anche come mai è così importante oggi. Oggi c'è una crisi dell'industria della pesca che per quanto riguarda le attività dove i ricavi vengono influenzati c'è un sovrasfruttamento, una crisi economica, mentre per quanto riguarda i costi, come ho già detto all'inizio, il costo del carburante rende abbastanza non vantaggiosa questa attività. Come vedete nei costi di gestione il 55% è imputabile al carburante e quindi siccome la Commissione Europea ha individuato questa situazione di sfruttamento già da anni e quindi ha bloccato la possibilità di pescare di più, l'unica soluzione possibile è quella di ridurre i costi di gestione riducendo il consumo di carburante. Questa presentazione è stata presentata in vari contesti, ho riutilizzato delle slide, a volte ho cercato di tradurle in italiano dove è possibile per far capire a tutti, ma non so se abbiamo operatori del settore. Comunque questo sistema inizialmente è stato sviluppato dal CNR a bordo di un paio di pescherici dove tutti i flussi energetici chiamati così venivano misurati, dalla potenza elettrica, quella idraulica, il consumo di carburante, la potenza all'asse e la resistenza al traino attraverso delle celle di carico. Tutto veniva acquisito ad un rate di 5 secondi per poi venire elaborato a terra. la prima versione del sistema utilizzava due sensori per la misurazione del consumo di carburante e un sistema che registra, questo è un sensore basato sul principio di Corioli che misura la massa e quindi è indipendente dalla viscosità e dalla densità del carburante, e un GPS logger, quindi venivano misurate tutte le fasi di pesca e il consumo associato. Questi erano i primi due pescherecci che erano dei pescherecci a volante, si differenziavano nell'avere uno a passo fisso e l'altro a passo variabile, quindi si rendeva molto più efficiente dal punto di vista della navigazione, variava il passo e quindi ottimizzava a quel regime i consumi. Questo è una particolare del sensore che veniva montato nella sala macchine, questo è il multichannel recorder dove venivano memorizzati tutti quanti i dati. E questo come si presentava. Questa è una tipica bordata di un peschereccio e i colori sono proporzionali alla velocità, quindi abbiamo il ciano e quando c'erano le cale, quando veniva effettuata la pesca, e il resto era navigazione e ricerca del pesce. Non mi fermo su questo grafico, ma è giusto per mostrare che il consumo di carburante sull'asse delle ordinate e la velocità sull'asse delle ascisse, ci sono state tonnellate di dati raccolti e che permettevano anche di distinguere le diverse fasi. Questa è la navigazione, questo è il primo peschereccio, il secondo peschereccio è quello a passo variabile, questo è il primo peschereccio più datato e meno efficiente e quindi vedete come il consumo cresceva esponenzialmente con la velocità. Questa è una prospettiva di tutto quanto il sistema dove venivano posizionati i sistemi e i sensori. Nella seconda versione non c'era più un operatore che andava a bordo a scaricare i dati manualmente, ma il peschereccio quando entrava in porto praticamente rilevava la wifi e venivano trasferiti automaticamente dal sistema al server dell'istituto. Ancora una particolare dei sensori, questi sono quelli che misurano, è un torsiometro che misura poi la potenza all'asse attraverso la misurazione dei giri, questo misurava i giri. Questa è come abbiamo misurato la potenza idraulica e la potenza elettrica, sempre i suoi sensori. Ovviamente il sistema non è stato soltanto montato sulle volanti, abbiamo misurato anche altri sistemi di pesca, lo strascico è il rapido, ogni punto è un peschereccio e come vedete qui c'è una chiarissima dipendenza fra la lunghezza del peschereccio e i consumi giornalieri, questi sono litri al giorno. Il rapido che è un attrezzo che pesca a circa 6-7 nodi è il più energivoro dei due, lo strascico si piazza in mezzo e la volante è subito quella più bassa. Non perché i litri ora siano inferiori tra volante e strascico, ma lo strascico pesca per più ore e quindi alla fine della giornata consuma di più con la volante. Non sto mostrando il rate litri ora, altrimenti i due pescherecci strascico e volante seguirebbero lo stesso modello. Il rapido invece si differenzia praticamente da entrambi perché ha una velocità di traino molto maggiore. Adesso una parte che è nuova e che non è stata mai presentata a nessun congresso, il lavoro è stato appena inviato. Faccio una sintesi di quello che è stato trovato dal 2008 fino al 2018, quindi sono stati dieci anni di lavoro, in cui mettiamo a confronto, viene chiamato carbon footprint, cioè i chilogrammi di CO2 per tonnellata di pesce o anche questo è un ottimo indicatore. Il carbon footprint praticamente deriva da questo litri di carburante per tonnellata di pesce o chilogrammi di pesce, basta dividere per mille. Questo indicatore è chiamato fuel use intensity. Mostro per prima quello dello strascico. Dividiamo lo strascico in due parti. Uno è abbastanza monospecifico, cioè ha una specie target i gamberi in Sicilia, mentre quell'altro racchiude un po' tutta l'Italia, un segmento che è per tutta l'Italia. Sto facendo vedere pescherecci nel segmento 24-40 metri. Più o meno i due hanno lo stesso litri giorno, con una certa variabilità. Questi sono litri anni di consumo di carburante che un peschereccio consuma. Questa è l'ending, cioè la cattura, 27 tonnellate hanno e l'altro è 61 tonnellate, in quanto non abbiamo un target preciso, ma è bene pescato un po' tutto, quindi è maggiore. E questi sono i litri di carburante per tonnellata di pesce. Quindi possiamo dire che 4 litri a chilo di pesce per lo strascico, che a noi è più familiare. Questo è per il rapido. Si differenzia il nord Adriatico da quello centrale, perché quello centrale ha una cattura molto alta, data dai murici, murex, il bolinus, sono dialettamente i parlandi chiamati le raguse, quindi abbassano moltissimo il fuel use intensity A2. Questa è per la volante. La volante ha delle grossissime catture. Il nord Adriatico ha anche più di tre volte quello che viene pescato in sud Adriatico, 3-4 volte, e qui il FUI, la fuel use intensity è molto bassa, cioè abbiamo mezzo litro per chilo di pesce sbarcato. Questa è invece la totalità in Italia. Il segmento non è più 24-40, faccio vedere una strisciata di risultati, in cui praticamente se prendiamo quasi tutti i pescatori, greci italiani, abbiamo che un consumo giornaliero è di 1000 litri al giorno per una cattura di 56 tonnellate all'anno e possiamo dire che in Italia circa 3 litri di carburante vengono utilizzati per sbarcare un chilogrammo di pesce. Se li vogliamo confrontare con gli altri sistemi di allevamento, non possiamo fare il confronto con il FUI perché è specifico al diesel utilizzato, è molto più possibile fare sul carbon footprint. Abbiamo che in acquacultura abbiamo 3-15 kg di CO2 per ogni kg prodotto, 2-6 per il pollame, maiali 4-11, bovini 9-42 e ovini 10-150. Questa è una fonte del 2012. e se vediamo il nostro carbo footprint abbiamo 8 kg circa di CO2 per ogni kg di pesce, si piazza più o meno in mezzo a questi due allevamenti. Quindi non è al massimo ma è uno dei medi. ora vorrei far vedere anche un altro un altro argomento che noi abbiamo sviluppato durante questi anni questa è la una rete molto semplificata e dove potete vedere che la resistenza maggiore si sviluppa nella rete al 65 per cento e ai divergenti. Quindi è più facile ottenere un riscontro se riusciamo a ottimizzare questa parte o questa parte. Negli anni ci siamo noi molto concentrati sullo sviluppo di divergenti che fossero più idrodinamicamente più efficienti e non invece utilizzassero l'effetto binario del fondo, lo shearing effect, per allargare la rete. Questi sono dei divergenti danesi che sono semi pelagici, cioè non toccano il fondo. Alcune industrie locali si sono di recente dopo il progetto BENTIS che abbiamo coinvolto queste due ditte per sviluppare dei divergenti che fossero sia a basso impatto che idrodinamicamente più efficienti di quelli che vengono utilizzati tradizionalmente in Italia. Nel progetto BENTIS BENTIS era un progetto europeo e altre altre aree, questa è nel Western Water dell'Atlantico, un altro partner si era concentrato, appunto come vedete in questa fotografia a destra, nel ridurre l'effetto di impatto del fondo per cercare di allargare la rete. Il piano di lavoro era molto semplice ma articolato, c'era prima uno sviluppo del modello nella Galleria del Vento oppure nelle vasche, ad esempio quella danese di Hirschal, dove venivano provati i modelli. una volta che il modello era messo a punto si provava in mare e poi si provavano direttamente con i pescherici commerciali. questa è la prova nella Galleria del Vento e nella Flume Tank, poi c'era la parte di prova in mare. questo è un esempio di quello che abbiamo fatto noi, sono dei sonogrammi rilevati con il size scan sonar, dove venivano rilevati i divergenti quando erano in pesca. quello è il fondo, questo era appunto come il divergente semipelagico si piazzava a due metri e mezzo senza toccare il fondo. questo è un altro sonogramma del size scan sonar, praticamente va letto in questo modo, questa è la strisciata del fondo, questa è una parte d'ombra dello strumento e il divergente praticamente si vedeva che stava a una distanza, si fa riferimento con l'ombra, con il size scan sonar, a una distanza di 2,5-2,6 metri dal fondo e veniva ridotta ovviamente la parte dell'impatto del divergente sul fondo. la pesca rimaneva comunque abbastanza o non significativamente differente da quella fatta in modo tradizionale quando si utilizzava il divergente semipelagico perché c'erano delle catene di compensazione che tenevano l'attrezzo da pesca stabile sul fondo. questo è ancora un sonogramma dove veniva appunto messo uno strumento che misurava la turbidità, cioè quanto sedimento veniva alzato. Un confronto fra quello tradizionale e il tiburon, senza andare in dettaglio della tabella, abbiamo riscontrato un 18% di risparmio di carburante passando dal tradizionale allo sperimentale e in questa analisi economica si vedeva che con un 3.500 euro di extra investimento di costo dello sperimentale rispetto al tradizionale questo costo veniva recuperato in circa 4 mesi in quanto i costi del consumo del carburante causati appunto da quel 18% in più si aveva circa 12.000 euro all'anno di risparmio. tenete presente che questi costi di 0,60 euro al litro risalgono da qualche anno fa, adesso sono un 40% più alti per la pesca. e anche questa è una strategia che può portare un risparmio del consumo di carburante se si adotta la WTroll in quanto al cavo centrale si assorbe gran parte della resistenza e si invia soltanto un 36% totale complessivo ai lati e quindi si può ridurre la dimensione dei divergenti. questa è un'altra strategia nel passare dalla rete singola alle reti gemelle si ha una riduzione dei divergenti e quindi di tutta la traversatura con maggiore flusso nella rete e quindi minore resistenza a parità di aria strascicata. questa è un'altra parte che abbiamo lavorato molto negli anni nell'utilizzo di materiali ad alta tenacità e quindi più sottili e meno resistenti al traino. una carrellata veloce per alcune innovazioni che abbiamo provato questo sono dei dispositivi elettromagnetici per il trattamento del carburante che aumentano praticamente l'efficienza termica del motore questo risparmio abbiamo visto un 4% molto interessante questa tecnologia chiamata ORC che utilizza praticamente il calore di recupero per produrre energia elettrica è stato sperimentato in un progetto europeo è un life e abbiamo visto che può dare un 5-8% di risparmio molto interessante anche l'utilizzo di vernici antivegetativi appropriati qui è un esempio di come una piastra può essere intaccata dal falling e quella invece pitturata no tenere la carena pulita abbiamo verificato un 6-8% di risparmio molto interessante questa ma è solo per nuovi pescherecci a questo punto perché si tratterebbe di utilizzare una forma ottimale dello scaffo per il tipo di pesca che si effettua questo può portare fino a un 50-55% di pescherecci quindi si sono concentrati in questo i danesi a loro tempo e l'avevano chiamato green troller quindi in conclusione sviluppare tecnologie accettabili e creare incentivi per cercare di introdurre queste invenzioni nel settore è sicuramente il suggerimento più vero che ha portato a dei riscontri dal punto di vista delle implementazioni nella marineria e abbiamo visto che quando gli obiettivi erano raggiungibili e realistici venivano maggiormente anche accettati dai pescatori e solo però con una buona formazione e assistenza tecnica si può avere questa win-win situation cioè che il pescatore essendo un po' testitrestio e tradizionalista nell'utilizzo dei loro attrezzi e della tecnologia va un po' assistito inizialmente e nel progetto Bentis abbiamo avuto un'ottima esperienza coinvolgendo direttamente l'industria e quindi diciamo l'abbiamo resa partecipe di queste soluzioni che proponevamo e devo dire che anche loro finito il progetto hanno continuato un po' con questa mentalità e sì qui è una parte un po' più di gestione della pesca dove dico i sussidi andrebbero meglio indirizzati verso le tecnologie più promettenti dal punto di vista energetico e più efficienti e il punto 6 potrebbe anche essere discusso per ore però per il momento noi ci sentiamo di dire che la pesca strascico rimane per la cattura di alcune specie ancora l'unica possibile e anche l'ultimo suggerimento, l'ultima conclusione è per incentivare l'utilizzo di tecniche dal punto di vista live denominate live, cioè low impact fuel efficient assegnare appunto questi sussidi a quei tipi di pesca che sono appunto di queste caratteristiche o addirittura delle aree di pesca dove solo loro possono entrare io Laura avrei finito il primo argomento non so se c'è tempo per vedere questo secondo argomento dimmi tu sono circa una decina di slide ma guarda se riusciamo a condensarlo in pochi perché è un tema comunque estremamente interessante però se riusciamo a terminare l'intervento in tre mesi sì, va bene qui non do nessun risultato do soltanto una panoramica su cosa è il bycatch ho adattato un po' la definizione di bycatch a mediterraneo cioè il bycatch nel mediterraneo essendo, non essendo, a parte alcune pesche tipo leggeri pesche come ho fatto vedere quella prima dei gamberi o delle alici non c'è una specie target ma il pescatore pesca un po' tutto soprattutto nello strascico quindi il bycatch viene derubricato un po' a tutta quanta quella parte di pesci e tartarughe e pesci di corallo che il pescatore non intende catturare e spugne e altri animali ma soprattutto specie protette quindi tutte le modifiche alle reti da trainio che noi abbiamo sviluppato i cosiddetti BRD tendevano un po' a ridurre la cattura di questi animali come le tartarughe, delfini e squali all'inizio prima di fare l'esperimento ci si concentrava soprattutto nel definire nella definizione di bycatch e a seconda della tipologia di bycatch ci sono dei BRD appropriati come vedete qui ad esempio small fish i tre BRD più indicati sono il coden a maglia quadra il giovane il TED e le finestre da square mesh faccio vedere di cosa si tratta i JTED sono delle modifiche all'attrezzo che permettono la fuga dei pesci attraverso in questo caso le corde o delle griglie messe in questo modo che lasciano passare gamberi nel sacco e filtrano il pesce giovanile fuori della rete questi sono i fisheye che è un dispositivo che permette la fuga ai grandi notatori che riescono a risalire dal sacco verso la bocca della rete e questo è il RES Radial Escape Section per una fuga radiale al flusso dell'acqua e questo è il classico sacco a maglia quadra che abbiamo sviluppato nel Mediterraneo è reso obbligatorio e queste sono le finestre a maglia quadra utilizzate nel mare del nord e in atlantico non nel Mediterraneo questo è il fish box è tutto movie musica 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 su Grazie a tutti